Se hai la pressione bassa e con questo caldo ti senti svenire, segui questo video fino alla fine perché ti dirò cosa fare per stare meglio. Ma prima seguici! Se non assumi i farmaci per la pressione, perché in questo caso dovrai rivolgersi al tuo medico per un eventuale aggiustamento della terapia, le cose che dovrai fare sono queste. Bevi molta acqua. L'acqua aumenta il volume del sangue e di conseguenza aumenta la pressione. Assumi sali minerali per reintegrare gli elettroliti persi con la sudorazione. Consuma 5 porzioni tra frutta e verdura. Bagna polsi e caviglie con acqua fredda. Il freddo provoca restringimento dei vasi con conseguente aumento della pressione. Non utilizzare zucchero perché lo zucchero non aumenterà direttamente la tua pressione ma soltanto la tua glicemia. Utilizza liquirizia per il suo contenuto in glicirizzina. La glicirizzina agisce come un ormone, l'aldosterone, coinvolto nell'aumento della pressione arteriosa. E se questo non è sufficiente, nelle emergenze, metti qualche granello di sale da cucina sotto la lingua. Se hai sentito bene sale da cucina, il sodio raggiunto il sangue richiama acqua nelle vene aumentandone il volume e di conseguenza fa aumentare la pressione. Tu hai mai utilizzato qualcuno di questi rimedi? Scrivimelo nei commenti. Io sono Rosa, sono una farmacista, se il video ti è piaciuto metti un like e segui la nostra pagina.